Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove si registrano code a causa di un incidente avvenuto tra l'Astra Signa e Scandici in direzione Firenze. Si ricorda inoltre che in FIPILI a causa di lavori è chiuso lo svincolo di Ginestra a Fiorentina in entrata e in uscita fino alle 17 di oggi. In A1 chiuso invece il tratto tra Rioveggio e Aglio fino alle 18 di domani in entrambe le direzioni. Chiuso per lavori invece lo svincolo di Chiesino Uzzanese in entrata in direzione Pisa fino alle 18 del 27 novembre. A Firenze restringimento di carreggiata e code a causa di un incidente avvenuto in via Pistoiese tra via dell'Osteria e via di Cocco in direzione Firenze Centro. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!